Buone notizie arrivano sul fronte castano e coltura. Dopo anni di difficoltà a combattere contro un parassita che devastava il raccolto andando a distruggere i frutti sin dal germoglio, ora finalmente gli operatori del settore possono tirare un sospiro di sollievo. In un 2020 decisamente drammatico per ogni altro settore, pare che la castano e coltura salernitana può invece tirare un sospiro di sollievo. Una notizia che rallegra soprattutto i produttori di rocca d'aspide che per i loro marroni possono vantare il marchio IGP. Sconfitto quindi finalmente il cinipide galligeno, noto come vespa del castagno, che insinuandosi nei germogli e nelle foglie delle piante, la sua larva compie l'intero ciclo vitale danneggiando il frutto e lo stesso albero. Finalmente sembra che i difficili anni del raccolto danneggiato sono ormai alle spalle con un 2020 che invece segna la ripresa del settore della castanicultura. Dopo dieci anni di flaggello causato dal cinipide galligeno che ha quasi azzerato l'intera produzione regionale, dichiarano da Coldiretti Salerno, il settore è finalmente in ripresa. Le prime castagne sono di qualità buona e non presentano particolari anomalie. I quantitativi sono discreti, la calibratura è importante. L'emergenza cinipide, spiegano, non è ancora del tutto superata, ma finalmente le piante hanno ripreso vigore e la produzione è in netto aumento. Vanno di pari passo alla lotta biologica agli interventi culturali e di gestione dei castagneti, sottolinea la Coldiretti, necessari per dare respiro ad una castanicoltura in crisi. L'attenzione alle tecniche di potatura e alle problematiche fitosanitarie e ambientali sono fattori determinanti. Finalmente, e continuano, riparte un comparto strategico per l'economia delle aree interne e per il presidio del territorio. Coldiretti continuerà a fare la sua parte assistendo agli agricoltori nella formazione culturale e nella lotta al parassita cinipide.